Ombrelloni chiusi questa mattina su tante spiagge italiane. Dalle 7.30 alle 9.30 si è svolto lo sciopero dei balneari che hanno aderito alla manifestazione nazionale chiedendo di fare chiarezza sulle concessioni in scadenza a fine anno, diverse le zone costiere della penisola e delle isole coinvolte. La maggiore partecipazione alla protesta è stata registrata in Liguria con l'adesione che ha toccato il 90% con punte del 100%. Anche in Sardegna migliaia di ombrelloni chiusi per protestare contro la mancata emanazione da parte del governo delle nuove regole sugli stabilimenti balneari. Nelle Marche oltre il 50% degli operatori hanno aderito all'iniziativa. Penso sia importante sensibilizzare persone e le istituzioni di questo problema italiano ed europeo. È importante dare un chiaro segnale per far capire l'importanza di questo provvedimento che vogliono attuare. Noi ci impegniamo nella protesta, quindi nella chiusura di due ore degli ombrelloni mattutina e speriamo anche che tanti altri stabilimenti balneari abbiano fatto lo stesso. Sulla questione della mini protesta la categoria è spaccata. Sibconfcommercio e Fibaconfesercenti hanno imboccato la strada della mobilitazione. Altre sigle come Asso Balneari, Feder Balneari e CNA non hanno partecipato all'apertura ritardata degli ombrelloni. Nel comune di Pesaro è stato registrato un numero basso di adesioni. Da qui ai prossimi mesi cosa vi aspettate? Ci aspettiamo una sensibilizzazione dell'argomento e che qualcuno faccia qualcosa sia in Italia che in Europa per i nostri interessi.